Shipping Italy oggi è con l'ingegner Paolo Questa di Hitech, azienda genovese specializzata in soluzioni tecnologiche innovative in ambiti anche riguardanti il mondo dei trasporti e della logistica, al quale chiede innanzitutto quali sono le ultime novità in particolare nel mondo della gate automation. Nell'ambito della gate automation ormai le tecnologie sono consolidate, quindi la possibilità di automatizzare il processo di ingresso o di uscita di un carico all'interno di un porto o di un interporto è soluzione consolidata, quantomeno per Hitech. In ambito internazionale sempre più porti adottano questo tipo di soluzione, questo perché l'efficientamento della parte di trasporto, quello che si chiama l'ultimo miglio, è diventato ormai un must per via del fatto che l'impatto che ha il volume di trasporti, soprattutto in città come Genova, l'impatto che ha il volume di trasporti da e verso il porto, è diventato rilevante. È rilevante e ha naturalmente anche un impatto sulla viabilità poi cittadina. Quindi in porti particolarmente complessi come il nostro è fondamentale cercare di accelerare quelle che sono le procedure di ingresso e di uscita per consentire quindi di smaltire il maggior numero di transiti nel più breve tempo possibile. Ci racconta nel dettaglio in quali porti avete lavorato fino ad oggi e che tipo di sistemi in concreto proponete, in particolare terminalistici? Allora, nei porti in questo momento siamo sul livello nazionale, ci sono anche tramite la costituzione di una rete di impresa obiettivi di internazionalizzazione, ma prevalentemente in questo momento abbiamo lavorato su porti e interporti a livello nazionale. Partiamo prevalentemente la regione, quella del nord, nord Italia, nord centro Italia, partendo da Trieste, Venezia ha una nostra soluzione, Porto Ravenna, a Spezia abbiamo lavorato, Genova, prevalentemente Genova e soprattutto la più recente, più importante a Vado Ligure, a Porto di Savona. Ci fa vedere, ci mostra come funzionano le vostre soluzioni? Volentieri, volentieri. La soluzione è strutturata con una serie di tecnologie che vengono emesse all'interno della corsia di ingresso del varco, quindi pensiamola proprio come fosse un casello autostradale, va bene? Il famoso telepass. L'equivalente del telepass è la soluzione che proponiamo noi. Non c'è, diciamo, un dispositivo a bordo del canyon che deve colloquiare con le antenne, ma abbiamo tutta una serie di sensori che consentono di rilevare quei parametri che servono al terminalista o all'autorità portuale per definire, per decidere se quella merce in transito, quel trasporto è autorizzato, è stato prenotato e quindi è autorizzato all'ingresso o all'uscita al porto. Nello specifico i parametri sono quelli della targa del mezzo che entra, dell'eventuale targa del rimorchio, del codice del container che viene trasportato piuttosto che non ad esempio dei parametri specifici come quello delle merci pericolose. Il sistema raccoglie tutti questi dati, il sistema Hitec raccoglie tutti questi dati, li invia ad un livello superiore che non è più il livello, diciamo, del software Hitec, ma è il livello del software di gestione del terminal o del porto che fa le verifiche del caso e se tutto torna sostanzialmente da semaforo verde e quindi possiamo alzare la sbarra e far transitare il transito. Quindi applicazioni in ambito stradale ma anche ferroviario? Assolutamente, noi abbiamo la stessa soluzione, invece che leggere la targa del veicolo che entra in porto o esce dal porto, legge quelli che sono i codici dei carri ferroviari e quindi consente di stabilire in modalità completamente automatica qual è la composizione del treno e quali sono le merci che vengono trasportate dallo stesso. In questi giorni si sente parlare molto di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che fa della digitalizzazione uno dei punti cardine. Mi sento di dire che voi in questo siete già molto avanti, quindi avete già studiato delle soluzioni che funzionano e che sono state applicate, mi interesserebbe capire quindi quali possono essere gli sviluppi ulteriori da adesso in poi. Assolutamente, Piano Nazionale di Resilienza ha stanziato una delle misure, è proprio relative alla logistica intermodale. Nello specifico c'è una misura e una linea di indirizzo dedicata proprio alla digitalizzazione della catena della logistica. Ci sono i grandi piani nazionali legati alla logistica digitale e alla dematerializzazione di tutta quella documentazione che serve ad accompagnare un trasporto. È chiaro che una soluzione come quella di Hitec, la soluzione come quella di Hitec legata alla gate automation, è uno dei fattori abilitanti per poter fare digitalizzazione completa, perché quando ho la documentazione completamente digitale e un sistema completamente automatico che è in grado di rilevare questi dati qua, a questo punto abbiamo completato la catena che serve dal punto di vista digitale per effettuare le operazioni. Dico bene, sostenendo che ormai le soluzioni come la vostra di gate automation proposta da Hitec è un qualcosa di rinunciabile per qualsiasi terminal portuale o termodale italiano? Quello che osserviamo proprio in questi ultimi mesi è che rispetto a una richiesta di offerta degli anni precedenti che poteva riguardare o qualche terminal di qualche gruppo particolarmente importante a livello internazionale, quindi con capacità di spesa e capacità di investimento, sta arrivando anche ai terminal più piccoli, quindi ormai la richiesta è arrivata a essere irrinunciabile anche per questi soggetti. Non dimentichiamo che un sistema di automazione è vero che apparentemente potrebbe sembrare togliere del lavoro, ma la verità è che la persona che doveva stare in strada a prendere tutti questi dati qua e allo stesso tempo a respirarsi PM10, a correre il rischio di essere investita da un camion che fa qualche manovra, è la stessa persona che a questo punto non lavora più in strada ma lavora in ufficio ad assistere e a supervisionare questo tipo di sistema. A livello nazionale quante aziende fanno il vostro stesso mestiere e a questo livello di performance? Con un malcelato orgoglio dico che a livello nazionale Hitec è l'unica azienda a proporre questo tipo di soluzioni con una track record, con una storia e con delle referenze così significative. Competiamo con altre aziende a livello internazionale, ma a livello nazionale siamo veramente gli unici a proporre questo tipo di soluzioni. Benissimo, grazie Ingegner Questa per la sua interessante intervista. Grazie a voi.